solo per la gente qui al vostri eco boschi di fiducia che vi parla su suspects purtroppo l'odio non si sente sono ospite vi ricordo di lasciare like iscrizione campanellina buona visione e infine saluto lenin castillo full che ha commentato come puoi salutare quindi se volete essere salutati come lui basta commentare come lui vabbè continuate il video e buona visione ciao grazie 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 ciao Panellina e vabbè. Ciao!